Massimo Passaro, i punti da indicare a Ciampi, lei ne ha elencati canonici sei richiesti, però ha dato delle priorità. No, noi come sempre sforiamo, perché ne abbiamo preparati otto, ne abbiamo anche di più, però siamo stati sintetici. Devo dire che abbiamo messo i punti del programma, quelli che sono un po' più ad ampio respiro verso la fine, ma i primi cinque punti sono quelli che ci interessano di più, commercio artigianato, famiglie, ma soprattutto il senso della memoria che si è persa in questa città. I nostri primi cinque punti sono assolutamente punti operativi, ne abbiamo parlato anche con il sindaco Ciampi e vogliamo che queste nostre proposte possano essere per lui i primi passi per risolvere e per dare già delle risposte secche alla città in maniera molto veloce. Parte quindi dalla viabilità, uno dei problemi principali della città? Ma parte innanzitutto dalla mia battaglia che è quella delle ZTL. Le ZTL non hanno senso, riprendiamoci i posti di parcheggio che forse danno un po' più di respiro alle casse del comune, però immaginando anche delle tariffe diversificate, ovvero i primi 15 minuti liberi. Ricordiamo che abbiamo la Suprema Corte Cassazione che ci impone le strisce bianche che non abbiamo mai avuto, maggiori stalli per i disabili e per le donne incinte e soprattutto i parchimetri che si possano pagare finalmente con una prepagata o una carta di credito. Io sul Presidente del Consiglio noi, come ben sapete, siamo l'unica forza che non ha una rappresentanza in Consiglio Comunale. Credo che sulla Presidenza del Consiglio lì ci dovrebbe essere anche un po' di responsabilità anche da parte delle opposizioni, perché questa è una città che va in ogni caso governata e non si può immaginare di rimandare l'elettore nuovamente alle urne. Sarebbe una devastazione proprio per il comune di Avellino, per il cittadino. Per quanto riguarda il bilancio, io credo che appena insediato il sindaco dovrà dare mandato pieno all'assessore per capire in che condizioni sono le casse del comune di Avellino. Beh, io ritengo che lì dove doveste trovare assolutamente delle mancanze, meglio un dissesto e un controllo da parte degli organi di governo che andare avanti così sempre con la corda al collo.